Il Tevere nel 1598, il Piave, l'Arno nel 1966, l'Ombrone pochi anni fa, sono storie che si ripetono, segno che l'uomo in Italia e anche nel mondo non ha ancora imparato nulla, ma in Italia in particolare vale la pena di ricordare che questo è un territorio fragile e non basta intervenire dopo ogni emergenza, serve, è necessario e ogni alluvione ce lo ricorda, una maggiore attenzione nei confronti del sistema idroelettrico, idrogeologico, del sistema territorio nel suo complesso. L'Italia è un paese molto fragile e questo è un memento che dovremmo avere sempre presente per ogni governo in tutte le occasioni ed è purtroppo una lezione che non abbiamo ancora imparato.